Tra gli ispiratori di Le Bonenove ci sono anche le poemo di poeti maledetti. Primo fra tutti, Artur Rembo che rubò il fuoco ai poeti per donarlo ai lettori e agli altri poeti. Ha scritto il sonetto maledetto. Io dico pane al pane e vino al vino, per questo sono un poeta maledetto. Da chi è lontano e chi me sta avvicino. Ho scritto col veleno sto sonetto, perché a nessuno voglio fare l'inchino per dire tu sei bravo, sei perfetto. Si non sa scrivere manco un bigliettino per fare i manocchietto con bacetto. In funno, a me nessuno mi ha capito, si pensano che son testate cazzo un buono a niente, un misero a un fallito. So solo uno che si è fatto il masso e che di ribolare ha mai finito al punto di essere diventato pazzo.